20 10 semaforo 5 4 3 2 1 ok andiamo vai sinistra 5 40 addossati e destra 4 in sinistra 3 meno e piega sinistra e al palo destra 3 meno meno gira 20 sinistra 3 meno meno apre stai dentro piega destra 20 piega destra 20 e vai destra 6 falla 100 addossati e stacca in fondo destra 2 in 2 tempi la seconda apre 30 attenzione sporco ok vai vai e destra 4 per sinistra 3 lunga gira 80 e al rosso sinistra 5 subito sinistra 4 subito sinistra 4 in ancora sinistra 4 meno per destra 3 meno gira sale 20 dossati e attenzione subito ripeto attenzione subito sinistra 4 meno sale qui in sinistra 3 meno meno lunga gira 20 e destra 5 falla stai largo e ancora destra 5 in sinistra 3 lunga gira sale stai dentro e destra 3 meno meno lunga gira 10 e sinistra 5 ripeto sinistra 5 e destra 4 meno meno 2 tempi 1 e 2 poi e destra 5 apre e sinistra 3 20 vai vai e destra 4 meno lunga 20 e al rosso sinistra 3 apre 3 apre per destra 3 stai dentro 3 stai dentro in sinistra 6 e all'albero Don Antone sinistro con gira benchi destra 5 falla per sinistra 5 meno per destra 4 falla 10 e sinistra 4 meno meno sale 4 meno meno sale e destra 5 e all'albero destra 2 meno meno sale 10 e sinistra 4 apre 100 e al rosso stacca sinistra 4 meno meno ripeto il fondo al rosso stacca sinistra 4 meno meno per destra 4 rotta 20 e destra 4 meno meno sale per sinistra 5 per destra 5 e ancora sinistra 5 ripeto ancora sinistra 5 al rosso sinistra 4 meno 2 tempi la seconda chiude e salta 20 al muretto destra 1 arrampicati in sinistra 4 apre stai su attenzione destra 2 ingresso sinistro ok dai 30 al muro alto destra 5 diventa 4 diventa 4 e poi 100 inizia la parte veloce giù giù dai all'albero sinistra 4 falla e piega sinistra 40 e al cancello sinistra 5 falla tieni corda 40 e all'albero sinistra 4 meno tieni corda per destra 4 meno 2 tempi e apre alla fine 30 e sinistra 5 tieni corda 20 ok dai e sinistra 5 con dosso e destra 4 meno 20 destra 4 meno 20 e destra 6 qui dai che sei in sinistra 3 apre per destra 4 e giochino sinistra 2 per inversione destra leva in sinistra 6 e destra 6 scende 50 e sinistra 4 50 dai giù giù e al muro destra 6 tieni corda falla destra 6 tieni corda falla 20 e destra 6 per ancora destra 6 in due tempi la seconda stai a destra sinistra 5 apre 50 poi piega sinistra e destra 6 piega sinistra e destra 6 e poi piega destra e cento rotti non funzionano per le gomme stacca sinistra 4 e l'asfalto sinistra 4 per destra 4 e sinistra 4 e destra 3 meno tieni corda falla 20 e destra 4 e albili tornando nel sinistro 20 destra 3 meno stai dentro per sinistra 4 diventa 3 per diventa 3 per destra 3 lunga stai dentro sinistra 4 meno stai dentro 4 meno stai dentro e destra 5 vai giù giù 5 41